Nella quarta giornata di Serie D si apre ufficialmente il capitolo derby tra le calabresi inserite nelle girone I del massimo torneo di lettanti. Ad inaugurare le stra-regionali di casa nostra sarà la sfida tra Rende e Roccella. Un match di particolare interesse non solo per lo scontro diretto tra due corregionali. Rende-Roccella di fronte alla squadra più attesa delle girone, partita però malissimo, e la matricola terribile che sta sorprendendo tutti. I silani hanno raccolto solo un punto in due partite, quattro invece quelli messi in cassaforte dal gruppo Regino, gli stessi che ha conquistato l'interregio. La formazione del prostretto torna sul neutro di Villa San Giovanni dove sbarcherà il Torrecuso, altra formazione che ha iniziato bene il nuovo torneo. Striscia di risultati positivi che prova ad allungare anche il Montalto che davanti al proprio pubblico ospita un due torre a caccia del primo successo in campionato. Squillo da tre punti che il Montalto ha già festeggiato nel proprio stadio all'esordio. Vietato sbagliare invece per la gioiesse, la formazione viola prova a mettere definitivamente dietro le spalle la partenza negativa. A dare una mano contro la battipagliese alla scuola di D'Alto Rione ci penserà il pubblico amico del Polivalente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.